Ciao, ti do il benvenuto a questa lezione di yoga utile per migliorare le funzionalità dell'intestino. Prima di iniziare ti ricordo che iscrivendoti gratuitamente alla nostra mail del sabato, ogni settimana riceverai una lezione gratuita di yoga, meditazione o respirazione consapevole, oltre che interessantissimi consigli che ti aiuteranno a vivere una vita più serena e consapevole. Se ti interessa iscriverti gratuitamente trovi tutte le informazioni nell'info box qui sotto. Ora invece sotto con la pratica. Namaste, buongiorno, benvenuto, benvenuta a questa speciale lezione dedicata al benessere dell'intestino. L'intestino oltre ad avere il ruolo fondamentale di farci fare tanta plum plum che per qualcuno potrebbe essere proprio un sogno. È anche la sede di molte emozioni come ansie, preoccupazioni e malinconie. E tutte queste emozioni causano tensioni che a loro volta si possono manifestare anche con costipazione. Quindi per aiutare il nostro corpo a farci fare tanta plum plum oggi lavoreremo con delle posizioni specifiche che ci aiutano appunto a lasciare andare le tensioni per aiutare il sistema digestivo a funzionare in modo armonioso e favorire quindi la regolarità intestinale. Per fare questa lezione ti consiglio di avere a portata di mano un blocco yoga oppure ancora meglio un cuscino cilindrico che utilizzeremo giusto prima del rilassamento finale. Cominciamo questa sequenza sdraiandoci a terra sulla schiena e facendo il mudra dell'intestino. Quindi prima di portarsi a terra ti faccio vedere come si fa. È molto semplice. Appoggia il pollice destro al centro della mano opposta. Con le dita della mano destra afferra il mignolo della mano sinistra. Poi porta il pollice della mano sinistra sulla parte interna cioè a lato dell'unghia dell'indice in modo che queste due dita formino un piccolo cerchio. Ok una volta che hai capito come eseguire il mudra puoi mantenerlo così almeno non ci sono altre distrazioni e poi sdraiati piano piano sulla schiena. Rilassati comodamente a pancia in su. Mantieni il mudra appoggiando le mani sulla pancia e rilassando le braccia a lato del corpo. Se preferisci puoi mantenere le gambe piegate con le ginocchia che cadono l'una contro l'altra per aiutarsi a sostenersi a vicenda. Ti consiglio questa variante specialmente se soffri spesso di mal di schiena nella zona lombare. Quando hai trovato comodità nella posizione chiudi o socchiudi gentilmente gli occhi. Fa un bel respiro profondo, inspira pieni polmoni e poi espira dalla bocca. Sentendo con l'espiro come lo stress, le preoccupazioni, tutte le ansie scivolano via. L'intestino da un punto di vista energetico è anche relazionato alla mania di perfezionismo. quindi quando siamo troppo esigenti con noi stessi creiamo delle tensioni che non gli permettono di funzionare al meglio. andiamo quindi a porre un'intenzione per questa pratica ripetendo mentalmente lascio andare il perfezionismo oppure puoi ripetere lascio andare qualsiasi cosa tu voglia lasciare andare. Ripeti mentalmente per tre volte la tua intenzione per questa pratica. poi mantenendo l'attenzione al tuo respiro andiamo a fare il movimento della posizione a gambe piegate. quindi con l'inspiro lascia pure andare al mudra, allunga le braccia oltre la testa, espirando piega e abbraccia la gamba destra al petto e distendi l'altra gamba al suolo. con l'inspiro torna allungare le braccia oltre la testa, distendi la gamba destra al pavimento, espiro cambio, piega e abbraccia l'altra gamba al petto e continua questo fantastico movimento facendo in modo di coordinare il più possibile il movimento al tuo respiro. inspira mentre allunghi le braccia e la gamba al pavimento, espira per abbracciare la gamba al petto. fai un ultimo movimento, completando con la gamba a sinistra, senza fretta e quando è completato, rimani con le gambe allungate al pavimento e le braccia allungate oltre la testa. fai un paio di respiri profondi in questa posizione, se ti senti più comodo o comoda, puoi piegare le gambe come all'inizio, lasciar cadere le ginocchia l'una contro l'altra. mantieni sempre il contatto col tuo respiro, che è il tuo ponte di collegamento con il momento presente e per controllare la tua mente e le tue emozioni. poi da qua con calma, ruotando su un fianco, oppure come sempre appoggiando le mani sotto le ginocchia per darti una piccola spinta e poter rotolare sulla schiena, portati in una posizione a quattro zampe. vidalasana per andare a fare la posizione del gatto e della mucca. le ginocchia sono alla larghezza dei fianchi, le braccia alla larghezza delle spalle. la testa è in linea con la colonna, con l'inspiro inarca la schiena, guarda in su. espirando, arrotonda la schiena e guarda in giù. e continua, come sai fare? ogni tanto controlla anche la tua espressione del viso, se ti accorgi che stai facendo delle facce strane, come è comune fare, rilassa, fai un bel sorriso e poi torna al momento presente a sentire le sensazioni nel corpo. ok, completa senza fretta. yeah, super! andiamo a fare la posizione della ghirlanda malasana. quindi punta i piedi e sposta il bacino indietro per portarti nella posizione accovacciata. rimani qui o, se ti è possibile, appoggia anche i talloni al pavimento. poi unisci le mani di fronte al cuore. i gomiti spingono contro le ginocchia per favorire l'apertura del petto. quindi con l'inspiro, guarda in su, apri il petto. espirando, spingi le ginocchia contro i gomiti e distendi le braccia in avanti e guarda in giù. continua col tuo ritmo, inspiro, apri. espiro, distendi le braccia e guarda in giù. continua. ok, completa senza fretta. rimani nella posizione della ghirlanda. fa un respiro profondo. distendi le gambe di fronte a te. rilassa le mani ai lati del corpo oppure sulle gambe, come preferisci. e osserva. a volte si sente un formicolio piacevole. e è il nostro prana, la nostra energia vitale, che sta tornando a fluire e a scorrere a gonfie vele. ci portiamo in una posizione accovacciata per fare il massaggio addominale. udara kashanasana. il nome è un po' complicato, ma la posizione invece è molto utile appunto per favorire il transito addominale. io faccio sempre da specchio, quindi inspira. espirando porta il ginocchio sinistro verso il piede opposto. ruota il busto verso destra e spingi l'altra gamba contro, quindi verso sinistra, quindi contro il busto. e ruota il busto verso destra, all'indietro. rimaniamo qua un paio di respiri profondi e prova a respirare nell'addome, cercando l'espansione della pancia con ogni inspiro proprio in modo di poter utilizzare il respiro per massaggiare gli organi addominali. ok alla prossima ispirazione torna al centro, espiro cambio. porta il ginocchio destro contro il piede opposto e spingi la gamba sinistra verso destra, ruota il busto verso sinistra. guarda indietro, piegati un po' con il busto in avanti e respira nella pancia. evita di creare tensione nelle spalle, quindi spingi sul ginocchio ma evitando di creare tensione nelle spalle. inspiro, torna al centro, torna a sederti, con le gambe piegate di fronte a te e da qui ci sdraiamo direttamente a terra. prepara vicino a te un blocco oppure un cuscino cilindrico bolster. mantieni le gambe piegate alla larghezza dei fianchi e andiamo a fare la posizione del ponte con supporto. quindi spingi sulle piante dei piedi per aiutarti ad infilare il cuscino oppure il blocco tra la zona lombare ed i glutei. sistemalo per fare in modo che sia il più comodo possibile poi quando hai trovato comodità nella posizione rilassa le braccia con i palmi verso l'alto mantieni la testa in linea con la colonna fai in modo che i muscoli del collo, i muscoli del viso siano rilassati. qui porta la tua consapevolezza nell'addome e osserva come ad ogni respiro questa zona si rilassa sempre di più. alla prossima ispirazione spingi sulle piante dei piedi per aiutarti a togliere il supporto che stai utilizzando poi torna ad appoggiare la schiena e facciamo un bel super shake distendi gambe e braccia in alto e scuoti bene i piedi lascia i pulsi, le caviglie morbide shakerà tutto super shake shake ed entra in shavasana puoi coprirti se lo ritieni necessario poi distendi completamente le gambe con i piedi abbandonati verso l'esterno rilassa le braccia lungo il corpo con i palmi delle mani rivolti verso l'alto la testa è in linea con la colonna immagina un sentiero davanti a te illuminato da una luce soffusa e dorata questo è il sentiero del tuo benessere intestinale cammina su questo sentiero e passo dopo passo senti la malinconia e le preoccupazioni scivolare via ogni passo che fai è un passo verso la tranquillità fa un ispiro profondo ed ispirando lascia andare tutte le preoccupazioni continuo a camminare lungo il sentiero e mentre lo fai ripeti mentalmente questa affermazione positiva il mio intestino è in salute la mia mente è in pace il mio intestino è in salute la mia mente è in pace il mio intestino è in salute la mia mente è in pace il mio intestino è in pace allunga le braccia oltre la testa, stirati bene, poi con l'espiro piega una alla volta e abbraccia le gambe al petto, poi ruotando su un fianco portati in una posizione seduta comoda, se possibile mantieni ancora qualche istante gli occhi chiusi e unisci le mani a preghiera di fronte al cuore, concludiamo ripetendo una volta il mantra OM, che fa bene anche al nostro intestino, inspira ringraziamo il corpo e la mente per la pratica, ringraziamo il nostro intestino e ti invito a pensare anche a qualcuno o qualcosa a cui essere grato, perché esprimere gratitudine ci aiuta a vivere bene, a lasciare andare ansie e preoccupazioni io ringrazio te con tutto il cuore e ci vediamo alla prossima Namaste ciao ciao mi auguro che questa pratica ti sia piaciuta e se ti va di continuare a fare yoga con me ti ricordo che sul mio sito yogainride.com troverai tantissime altre lezioni di questo tipo anche più lunghe e che puoi selezionare attraverso un apposito filtro in base al tempo, allo stile di yoga o al livello che preferisci in più con un unico abbonamento sono incluse sia tutte le lezioni ma anche tutti i corsi e programmi e se ti va di far diventare lo yoga una sana abitudine abbiamo uno speciale programma di 15 minuti di yoga al giorno per 30 giorni nel quale ogni giorno riceverai una mail con la relativa lezione del giorno in questo modo non non perderai tempo a cercare le lezioni e sarai sicuro sicura di fare un percorso equilibrato e bilanciato sia a livello fisico ma anche a livello energetico in quanto il programma è strutturato appunto per fare un percorso progressivo bilanciato che ti aiuta a mantenere e a trovare equilibrio di corpo e mente e se è la tua prima volta su yoga and ride puoi provare gratis per 15 giorni ti lascio tutte le informazioni nell'info box qui sotto spero di vederti presto sul tappetino buona continuazione e ci vediamo alla prossima ciao ciao